amici di più s questa sera siamo qui in una forma quasi informale perché siamo in pantaloncini io non tanto ma abbiamo degli ospiti importanti in quanto la di danza e appunto volevo presentarvi Maria Marino che è la direttrice è un insegnante è un personaggio importante della nostra riviera dei cedri buonasera Maria buonasera a voi grazie per questo invito sono felicissima di essere qui vuoi raccontarci un po la storia un po come questa scuola di danza come si chiama sì allora noi siamo la ballet studio e siamo sul territorio dal 2003 quindi insomma in questi anni abbiamo cercato di costruire una bella realtà solida per questi ragazzi che studiano davvero tanto anche durante l'anno tramite degli stage delle lezioni con dei grandi docenti del panorama nazionale e internazionale della danza quindi cerchiamo quanto più possibile di fare il massimo per questi giovani ragazzi ti ringrazio dopo poi sveliamo il vero motivo per cui siamo qui questa sera volevo passare a un giovanissimo ballerino professionista Gianmarco Bompane già il nome è buono di per sé Gianmarco tu sei un professionista mi sa che tu vivi a Roma da quello che ho capito prego presentati da solo io non sono in grado di farlo va bene allora io sono Gianmarco Bompane quest'anno ho terminato l'ultimo anno all'accademia nazionale di danza a Roma ho lavorato con varie scuole in questi ultimi anni facendo il ballerino ospite per i saggi di fine anno e ho lavorato anche per alcune produzioni dal punto di vista del balletto classico anche dal balletto contemporaneo e niente ok poi sveliamo anche il tuo ruolo in questa kermesse che si terrà fra qualche giorno io adesso mi devo soffermare un attimo ragazzi perché insieme a voi giovanissimi per compensare un po le cose è venuto a trovarci il nostro amico Antonio Fulfaro che sicuramente la gran parte del pubblico calabrese e italiano tutto conosce perché Antonio è un attore di teatro importante è un attore che ha fatto cinema ha fatto televisione è un fiore all'occhiello della nostra riviera dei cedri raccontaci come ti trovi in questa situazione perché sei venuto a trovarci insieme a questi due giovani grazie caro Umberto un vero piacere essere qui e devo ringraziare Maria Marino perché finalmente ho la possibilità di dare ai giovani di bel vedere quello che negli anni ho imparato vent'anni di onorata carriera e in questo momento anche se per un breve periodo ho questa possibilità Maria me la sta dando e quindi la ringrazio vivamente di questa di questa esperienza che sto vivendo con questi giovani che mi piace ricordare Giovanni Martucci Pino Gagliardi Antonello Marino Giulia Loia e spero di non dimenticare nessuno vero Maria giusto giusto no 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 non dimentichiamo nessuno ci sono tutti all'appello allora io passerei di nuovo a Maria perché il suo sorriso come si dice cattura la sorriso a 360 gradi e veramente e non conosce confine il sorriso di Maria oh vi ringrazio sei un poeta Antonio da oriente a occidente come sempre Antonio Maria vogliamo svelare il vero motivo per cui siamo qua stasera anche se qualcuno se ne è accorto attraverso delle inquadrature che c'è una locandina sì infatti oggi siamo qua proprio perché anzitutto volevo ringraziare Umberto per diciamo questa ospitata qui da da voi sono veramente contenta e poi ringraziare ovviamente Antonio che è sempre troppo buono è troppo umile dico io perché è veramente un grande professionista tutti lo conoscono e sì siamo qua perché fra due giorni debuttiamo l'otto luglio al centro commerciale il Tirreno con lo spettacolo di fine anno che vede i giovani ragazzi della scuola bambini protagonisti e soprattutto li vede protagonisti di un musical capitanato da un grande Antonio Fulfaro e dalla collaborazione con questi giovani ragazzi di Gianmarco che insomma ha messo al servizio la sua professionalità e quindi il duro lavoro della lanza che c'è dietro quindi vi aspettiamo l'otto luglio dove avremo ospiti diciamo del panorama anche della tv c'è Alessio Gaudino che è stato il finalista uno dei finalisti ad amici di Maria De Filippi quest'anno ha vinto il premio Fonsi quindi accontentiamo anche le giovani ragazze e poi ovviamente il maestro Steve Lachance che collabora con noi tutto l'anno e quindi ovviamente sarà il padrino sempre ben accolto da tutti a bel vedere e ovviamente il grande Antonio io lo ripeto il grande Antonio per me l'ospite è Antonio siamo 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 sono fiera di lui quindi e poi il nostro Gianmarco ti ringrazio molto vedo che sei felice già a pensare sul palco cosa accadrà Gianmarco raccontaci un po' degli sforzi dei sacrifici che si fanno per mettere su uno spettacolo del genere soprattutto quanti ragazzi ci saranno ad esibirsi ovviamente in più fasi allora lo sforzo è sempre tanto perché la prima cosa che bisogna fare è entrare nella mentalità dello spettacolo quindi capire il tema e entrare nel personaggio che ti viene assegnato da lì cominci a provare e cosa molto importante in uno spettacolo c'è sempre il gioco di squadra quindi non devi essere solo te a ballare ma devi essere sempre coordinato con tutti quanti. E poi quanti ragazzi ci saranno? No ci sarò solo io che farò il ballerino le altre sono tutte agli ave di Maria. Appunto quanti allievi a questa scuola lo facciamo dire a Maria un attimo? Sì allora io per scaramanziano non mi conto mai però più o meno allora fare questo musical saranno 20 ragazze che formano il corpo di ballo poi di questo musical e appunto amalgamate con tutta l'atmosfera le scenografie insomma e poi tutti i bambini che insomma prenderanno parte alla favola ad altri musical perché ce ne saranno anche altri dedicati ai più piccoli e quindi insomma siamo un gran corpo di ballo lo chiamo io dai. Passerei ad Antonio perché Antonio non c'è ancora svelato il motivo tu sarai sul palco ma non credo che farai l'ospite a raccontare una barzelletta avrai un ruolo determinante no? Beh c'è un ruolo importante nello spettacolo nel musical sarà una sorta di adattamento della Divina Commedia dove io interpreterò Virgilio quindi un ruolo estremamente importante accompagnerò Dante in diversi percorsi e avrò modo di dare opportunità a questi giovani di stare in scena di saper raccontare un qualcosa di importante che è veramente bello la Divina Commedia consiglio vivamente di non mancare di esserci l'8 luglio vogliamo ricordare dove? Al Tirreno allo spazio antistante il centro commerciale d'Espara a Belvedere Marittimo sulla Statale quello che mi piacerebbe dire Umberto che con Maria ci sono ci saranno dei progetti che non per ora non sveliamo per scaramazzire siamo diventati o meglio io sono diventato scaramazzico l'8 luglio quindi è un'occasione mi riferisco all'amministrazione attuale per far sì che possano vedere veramente un prodotto di qualità e magari aiutarci anche in un futuro non tanto remoto non tanto lontano di aiutarci a realizzare magari i nostri progetti ce l'auguriamo noi faremo il possibile affinché possiate vedere un prodotto di qualità vero Maria? Sicuramente sicuramente proprio così anche perché l'arte è una cosa meravigliosa io lo dico sempre qualcosa che arricchisce davvero i giovani li tiene lontani da tante cose cattive e davvero è una cosa piacevole anche a volte dura chiaramente perché l'arte è una cosa non è un hobby dico sempre ma si studia in tutte le sue sfaccettature dalla recitazione alla danza al canto a chi ha i progetti di fare televisione cioè anche fare l'avelina richiede un studio io questo dico sempre alle mie allieve se vuoi fare l'avelina devi studiare però insomma ci auguriamo che in genere l'arte venga messa in Italia dico io veramente nei posti più alti perché è bella ti ringrazio Maria allora io per confermare e per avvalere sempre di più avallare quello che state dicendo ti svelo un piccolo segreto di Pulcinella questa tv nasce proprio si chiama più S perché significa più sud tra le altre cose e più arte e più stimolo e tanto di più e noi siamo più propensi a vedi a proporre i talenti del territorio facciamo ci interessiamo di politica ci interessiamo tante cose ma la cosa importante è far vedere quanto talento c'è in questa zona e magari come diceva Antonio come dicevi anche tu se le amministrazioni locali in questo caso fossero più attente a quello che è veramente un parco d'arte io lo chiamo a tutti i livelli non solo per la danza ma per il teatro per il canto per la musica per qualsiasi cosa forse noi potremmo dire la nostra ad alta voce certo sarebbe più facile per tutti esprimersi dico io però insomma prima o poi ce la faremo io vi ringrazio intanto e vi auguro in bocca al lupo grazie a te Umberto grazie crepi grazie ciao ragazzi ciao